Conoscete i tagli di Fontana? Si tratta di opere d'arte che arrivano a valere anche svariati milioni di dollari, realizzate praticando delle aperture con un taglierino su grandi tele bianche. Osservandoli tanti commentano, beh, quella roba lì la sapevo fare anch'io. Fanny Bunny Magic Show di Foller e Wood si basa sullo stesso principio per far accadere cose magiche. Il lettore deve accompagnare questo coniglietto attraverso le pagine del libro dalla prima all'ultima, infilandolo ogni volta nell'unico foro disponibile. Qui per esempio infilandolo in questo taglio il coniglio sparisce in questa nuvola di fumo per riapparire nella pagina successiva su un tappeto volante. Alcune dinamiche sono molto semplici come quella in cui il coniglietto si infila dentro un vaso vuoto e voltando pagina, puff, sono spuntati magicamente dei fiori. Questa è una strizzata d'occhio al mago Houdini. Il coniglietto viene chiuso dentro uno scrigno e magicamente, girando la pagina, si è liberato. Il mio preferito ricorda De Prestige. Il coniglietto viene messo in una delle due casette, quella a pois rossi, ma voltando pagina la stessa casetta si rivelerà vuota. Il coniglio infatti si è magicamente trasferito nella casetta strisce. Se hai sempre pensato che le opere di Fontana fossero facilmente riproducibili, perché non metterti alla prova invece con il libro di Fowler e Wood? Tutti abbiamo in casa un foglio di carta e un paio di forbici. Ma in che modo rendere significativo dal punto di vista simbolico un taglio e alcuni disegni? Periodicamente in Italia c'è qualcuno che propone di bombardare i porti in Tunisia e Libia per evitare che le barche dei migranti raggiungano le coste italiane. Quando sento queste cose mi viene voglia di prendere un quaderno e iniziare a tagliuzzarlo. Sogno un singolo, piccolo taglio che faccia incazzare i leghisti. Qualcosa come una mappa del Mediterraneo, una barchetta e una specie di passaggio multidimensionale. Un transito sicuro, una via di fuga dalla guerra e all'arrivo, beh, che baba è cassata per tutti.